Non puoi andare in pensione? Chi? Lei? È quella che ci hanno mandato dalla centrale Doveva andare in pensione fra sei mesi Toraggio Ma sta fumando una sigaretta? Ma questa è la sigaretta elettronica signora Fa male anche quella? Che gli fai fare? È uno di quelli che non sanno fare un cazzo Ma questa griglia? Di che consiste? Il foglio elettronico Di che? Scusate Scusate Sto Christian è proprio un fio da una mignota Non ce la faccio più Tu accumuli, accumuli Invece ti devi liberare della tua negatività Tu ti devi incazzare Punto e basta Ma con chi? L'hai visto? Basta farsi rispettare Anche tu lo puoi fare Vabbè è una parola Oh ma che sei scemo? Non ti ho sentito Devi imparare a dire di no No Questi devono essere pronti per domani mattina No no Per favore mi aiutare Marco No Esos tipos son buenos para nada Si Esos tipos son buenos para nada Ajá Pone a nula Pone a nula Pone a nula Yo no quiero trabajar ¿Cómo fue? Quiero saltar Quiero mujeres Yo no quiero trabajar Gianni viene gozando Gianni viene bailando Gianni viene cantando Gianni viene, viene, viene Gianni